I cittadini abruzzesi ma non solo potranno sabato 12 e domenica 13 ottobre ammirare paesaggi incontaminati, tesori nascosti e opere d'arte grazie alle giornate d'autunno FAI organizzate dal Comitato di Chieti del Fondo Ambientale Italiano. Gli eventi che si svolgeranno nel prossimo fine settimana oltre che il capoluogo riguarderanno anche Ortona e Ribateatina. Un grande impegno nel quale il FAI mostra le grandi bellezze di cui è dotato il territorio, quindi sono giornate molto importanti, è un momento di raccolta fondi per il FAI, fondi che poi verranno rimbicati sul territorio ma anche un momento importante per i cittadini che potranno vedere e apprezzare beni che solitamente sono chiusi. Il motto di quest'anno è ricordati di salvare l'Italia, è un qualcosa di molto importante, se lo vediamo sotto un'ottica diversa, il fatto di andare a visitare un bene fino a se stesso non serve, l'importante è capire, comprendere che quel bene va conservato, va tramandato ai posteri perché comunque fa parte di una storia che è anche di un futuro, un futuro che può essere anche un futuro a livello di indotto commerciale quando i beni cominciano ad essere comunque fruiti con continuità. Noi abbiamo puntato su quattro diversi momenti, partiamo da quello vicino al mare, da Ortona, dove andremo a visitare alcuni palazzi importanti tipo il Palazzo Corvo, la Biblioteca Diocesana, passando per la parte storica della città, quella che è rimasta in piedi dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, per approdare poi a Ripa Teatina un borgo magnifico che io stesso ho cominciato ad apprezzare meglio dopo i primi sovralluoghi, dove vedremo che ha una storia di duemila anni, piuttosto interessante, vedremo anche tra le altre cose, quindi tra il Torrione, il convento, la chiesa di San Pietro Apostolo che si ami, vedremo anche una casa di un privato che è Palazzo Monaco che è molto 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 interessante. Per venire poi a Chieti dove avremo l'apertura della chiesa di Santa Maria Elettricale che vorrei sottolineare che si tratta di un bene che ha in gestione il FAI con un accordo sottoscritto con la sovrintendenza ad agosto di quest'anno, quindi cercheremo di valorizzarlo con continuità per chiudere poi in questo luogo dove ci troviamo ad oggi che è la sede dell'Ubibanca di Via Colonna, dove vedremo i tesori nascosti, cose che sono solitamente non accessibili, che sono delle opere d'arte di grande pregio.